Meghan Markle e il principe Ferri, saranno invitati all'incoronazione di Re Carlo il 6 maggio. Express ha precedentemente rivelato. Re Carlo ha fatto il paraocchi nel modo in cui è gestito la questione del duca, e della duchessa di Sussex presenti alla sua incoronazione. Ha affermato un commentatore. L'ex corrispondente reale della BBC Michael Cole ha sostenuto che il monarca ha lasciato la difficile scelta di accettare o rifiutare l'invito, e le conseguenze successive allo storico evento a Meghan, e al principe Ferri. Parlando con Sky News Australia presentatore Paul Murray, il signor Cole ha dichiarato. Il Re, in realtà, ha giocato un paraocchi qui. Ha chiarito fin dall'inizio che suo figlio più giovane, e la moglie di suo figlio più giovane, sono perfettamente i benvenuti all'incoronazione. E, naturalmente, questo mette la palla nel loro campo devono decidere. Se decidono di non venire li farà sembrare un po' meschini e meschini. E naturalmente, se vengono, li lasceranno aperti all'accusa di ipocrisia. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.